A due mesi dal sequestro del liceo delfico, Piazza Dante a Termo vive una situazione di profonda crisi. I commercianti privati del flusso quotidiano di studenti e personale scolastico denunciano un calo drastico degli affari e gravato dalla mancanza di chiarezza sul futuro della struttura. Oggi giornata del Black Friday che avrebbe dovuto portare opportunità, l'area è deserta. I commercianti di Via Carducci e Piazza Dante intanto temono per il futuro delle loro attività, alcune già sull'orlo della chiusura. Possiamo solo constatare che questo è un Black Friday, detto all'inglese, ma purtroppo è un venerdì nero, nero perché il commercio è calato in maniera verticale a causa della chiusura del delfico. 1200 studenti più tutte quelle persone che ci lavorano, purtroppo ci sta mettendo in ginocchio, sarà il peggior Natale che questa città vivrà. La perizia elaborata dal pool di tecnici per dissequestro, annunciata come cruciale per sbloccare i lavori, rimane segreta. Il presidente della provincia, Camillo D'Angelo, ha rilasciato solo dichiarazioni parlando di criticità che richiedono ulteriori verifiche. Alla manifestazione organizzata in Piazza Dante hanno partecipato anche esponenti del Comitato Delfico, la professoressa Anna Dottavio, che ha espresso il suo dispiacere per la condizione attuale di un'istituzione così importante per la città. Noi ci crediamo che la possibilità di rientrare la si possa trovare, il problema è, la vogliamo tutti? Perché da quello che leggiamo ho l'impressione che qualcuno non voglia proprio farci rientrare, al di là di qualsiasi valutazione di tipo tecnico, perché ci sono delle contraddizioni, quello che ho letto ieri mi sembra totalmente contraddittoria, la formazione del presidente della provincia e dell'avvocato Lettieri. Allora vorremmo tanto sapere quali sono le ragioni profonde per impedirci di rientrare. Oltre al disagio economico cresce l'indignazione dei genitori e degli studenti, costretti a spostarsi in sedi temporanee e spesso ritenute inadeguate. Noi quello che vogliamo è che il Delfico si riunisca di nuovo, che rientri, se dovremo poi uscire per fare i lavori, che si faccia un reale polo scolastico, non un agglomerato di container e che si mettano i ragazzi tutti quanti assieme, in sicurezza sia dentro che fuori.